ben ritrovati a tutti a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un'ottima alternativa a quello che vedete qui aperto nella mia macchina virtuale che è il monitor di sistema ecco con sistemi basati su gnome quindi ubuntu e tanti altri per difetto è presente appunto disponibile nel vostro sistema operativo già installato un monitor di sistema che è questo classico potete vedere i processi quanto occupano di memoria di cpu eccetera eccetera il classico anche il file system come siamo messi con i dischi con le partizioni eccetera e qui vi mostra appunto in un in una schermata unica in una finestra unica e veda un po il colpo d'occhio della situazione del vostro sistema ripeto in questo caso stiamo vedendo le caratteristiche della mia macchina virtuale ecco non è che questo monitor di sistema abbia difetti particolari non sia carino da usare da vedere comodo e pratico però ecco e diciamo così è pur sempre più pesante da aprire da gestire essendo con un'interfaccia grafica rispetto a un monitor di sistema da terminale ecco fra i vari fra le varie opzioni e possibilità di monitorare il vostro sistema da terminale ce ne sono di quelle già installate come top quelle che si possono facilmente installare come htop e altri ancora naturalmente ci sono svariati tipi ecco però sia top che htop presentando diciamo le cifre non so di occupazione di memoria in byte o in kiloby piuttosto che in megabyte come qua senza senza con percentuali ecco ho sempre trovo personalmente è la mia la mia opinione la mia sensazione la mia situazione personale un po difficile interpretare le cifre presentate da un programma come top che possiamo anche vederlo perché lo dico ma top ecco come questo vedete anche la memoria in kilobyte eccetera ecco sono cifre diverse alle quali non sono abituato sono più abituato a vedere queste quindi a colpo d'occhio e con la percentuale subito a fianco riesco a capire quanta memoria in questo momento è occupata mentre qui mi è un po più difficile sono meno abituato non sono abituato a questo tipo di visualizzazione ecco sicuramente ci sono altri utilizzatori di linux che useranno solo top perché hanno sempre usato quello sono abituati io non lo trovo meno meno intuitivo ecco meno come si dice oggi user friendly per me e magari anche per qualcun altro non solo per me ecco e in questo video quindi cosa vi voglio presentare un'alternativa a questo monitor di sistema che posso anche chiudere a questo punto sempre da terminale ma che trovo molto più vicina come presentazione delle informazioni in questa alternativa molto più vicina al monitor di sistema grafico grafico che questo piuttosto che top per esempio ecco h top come si chiama questa questa alternativa si chiama glensis che è un nome che della parola inglese glens che tipo occhiata dare un'occhiata ecco infatti il titolo sul sito dove dove depositato il software di questo progetto è un occhio sul tuo sistema praticamente quindi dare un'occhiata una vista sul tuo sistema va bene questo solo curiosità sul nome perché si chiama glensis l'abbiamo capito e su questo sito ci è spiegato tutto per benino tutte le opzioni tutte le possibilità che non vediamo ovviamente tutte in questo video è lo scopo di questo video è dirvi c'è questa alternativa provatela se vi piace potete approfondire tutte le opzioni le varianti che vi interessa vedere c'è la documentazione ci sono le le feature quindi quindi le funzionalità c'è la una comunità la quale discutere migliori e problemi eccetera eccetera appunto c'è anche la documentazione la potete vedere qui sia in formato viki che anche una documentazione vera e propria proprio un progetto trovo anche da questo punto di vista ben gestito perché spiega bene le varie opzioni come fare e poi c'è anche qua get started che vi presenta come come installarlo ecco quindi prendiamo la prima opzione che è la più come dire la più generale anche la più generica non solo per ubuntu ma un po per tutte le 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 varianti di sistemi operativi linux dovrebbe essere quella più neutra rispetto a tutte le varianti appunto di linux che siano badate su debian o meno installiamolo con questo comando quindi copia incolla in un terminale di questo comando copia il terminale l'ho già aperto se non erro francamente adesso che ho ovviato il video non mi ricordo se devo farlo come amministratore o meno mi sembra che sia proviamo senza io ci metto davanti amministratore perché mi sembra di ricordare che sia da fare come amministratore fermo un attimo video faccio una verifica se riesco a trovare la traccia di quello che ho già provato ve lo confermo è rieccomi di ritorno da quanto visto che ho già provato installarlo non in questa macchina virtuale ma sul mio sistema non ho usato sudo davanti quindi senza diritti di amministratore proviamo il comando eccolo qua enter ecco te pareva non è riconosciuto questo comando scusate un attimo vabbè prendo atto che curl non è attualmente installato in questa macchina virtuale sul mio sistema vero è installato quindi proviamo questo secondo comando vedere se wget è installato ormai questi sono i rischi del mestiere della diretta con le macchine virtuali che le creo per pasticciarci ma poi non sono proprio pari come il mio sistema vediamo un po vget sembra esserci ecco scaricato qui mi chiede la password quindi noi seguiamo le direttive del comando un po cosa fa quindi intanto che lì fa il suo lavoro i primi due comandi qui provatele nel vostro sistema uno o l'altro fra questi due curl c url o wget dovreste averli installati se non entrambi come nel mio caso del mio vero sistema sul mio pc in realtà io ho entrambi questi comandi installati può darsi che magari su qualche altro sistema vostro abbiate solo uno dei due quindi potete provare un comando o l'altro intanto qui sta lavorando vediamo un po' se fermare o meno il video o se magari è già finito sta ancora scaricando qualcosa ecco qua magari metto in pausa il video perché non vale la pena aspettare bene rieccoci di ritorno e ha finito tutta la sequenza dei comandi che doveva fare quindi il nostro glensys dovrebbe essere installato a questo punto possiamo far partire da terminale vediamo un po' no scusate un attimo di nuovo e rieccomi di nuovo a parlarvi in questo video mi spiace aver avuto queste interruzioni ma come ho detto sono i pericoli della diretta per finalmente installare glensys ho dovuto in realtà eseguire due volte il comando adesso vediamo se riesco a risalire vediamo un po' una qua allora la prima volta ma è la storia qui è andata nel terminale la prima volta ha installato delle dipendenze dai repository che mancavano per poter installare glensys quanto pare non so perché forse lo script di installazione o qualcosa non riesce poi a installare effettivamente glensys al primo giro diciamo così e così ho provato a rifare lo stesso comando questo qua vget copia incolla nel terminale e rifacendolo si accorge che in realtà le dipendenze necessarie sono già installate quindi parte subito a fare quello che effettivamente doveva fare rifà un controllo si accorge che le dipendenze sono a posto e incomincia a installare le sue dipendenze necessarie per glensys alla fine alla fine vediamo un po' dov'è alla fine è un po' lunga la storia alla fine installa finalmente glensys e adesso è riuscito ad installarlo quindi da una parte è un po' un peccato per un video che non sia tutto il ben lineare la spiegazione dall'altra vedete cosa può succedere alla peggio come è capitato a me fate una seconda volta lo stesso giro con lo stesso comando e poi alla fin fine glensys finalmente è installato è un programma da terminale quindi è come ho detto senza interfaccia grafica quindi più leggero e parte appunto da terminale con il nome suo glensys vedete ho scritto glensys fate enter e fate partire questa utilità di monitor di sistema ecco una delle cose carine è che si adatta automaticamente alla grandezza del terminale vedete che adatta le informazioni come devono essere mostrate a seconda della grandezza del terminale noi possiamo anche ingrandirlo per scopi diciamo come al solito didattici e vedete che rispetto a top htop o altri tipi di visualizzatori dei dati di sistema è molto più simile all'interfaccia grafica del monitor di sistema presente per difetto vedete la cpu con il suo visualizzatore qui metrico della grafica la seconda del percentuale di carico della cpu la memoria quanta ne occupata di sistema e la swap quindi l'area di swap quanto è occupata questo è vedete con la percentuale è molto presente identico anche con la grafica il grafico di occupazione della memoria della cpu vedete qui grafica diciamo con interfaccia caratteri ma replica tranquillamente queste cose la cpu poi il dettaglio lo vedete qui se ci sono più cpu naturalmente qui ci sono più più voci di cpu e qui nella mia macchina virtuale ho una cpu sola c'è una voce sola qui vi mostra quanto i programmi servizi dell'utenza normale occupano in percentuale quanto occupa il sistema in questo momento la memoria 63% occupata ecco qui vedete in megabyte e questo soprattutto che mi fa piacere vedere la stessa unità di misura della memoria del monitor di sistema vedete su un totale di 832 megabyte usate 551 liberi 281 eccetera eccetera la swap stessa cosa vedete su un 1020 megabyte usati 287 liberi tot caricamento della cpu eccetera eccetera qui vedete nella parte più abbondante della schermata l'elenco dei programmi dei servizi che stanno girando sul vostro sistema e vedete c'è la cpu la memoria la memoria virtuale il codice del del processo che sta girando vedete fra i quali glansi stesso eccetera eccetera qui vedete l'input up sui dischi se vi serve saperlo l'input up sulla sulla rete vedete quando il vostro pc va in rete legge scrive manda e riceve dall'interfaccia di rete il file system sulla mia macchina virtuale ha un disco di 18 e 3 giga ne sono occupati 7 e 6 giga e poi c'è solo la partizione di boot pochi mega la batteria addirittura vedete il 100% la batteria del mio portatile non ci sono warning quindi avvisi critici di sistema tipo che ne so memoria o cpu occupate al 100% qui verrebbero fuori addirittura anche degli avvisi di sistema qui c'è l'orario la data e l'orario che viene aggiornato anche quello vedete è perfetto qui c'è anche un indirizzo ip della rete qui vi dice come si chiama il vostro sistema che è un ubuntu 64 bit linux il kernel vi da a un colpo d'occhio vi da perfettamente tutto quanto vi serve del vostro sistema quanti task stanno girando sul vostro sistema quindi quanti programmi e servizi eccetera eccetera e voilà e vi dice che sono sorteggiati per quindi ordinati per l'uso di cpu quindi in ordine decrescente prima quello che occupa più cpu fino fino giù 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 e vedete che è bello bello e più leggero sicuramente del monitor di sistema predefinito con il tasto h che è l'help praticamente vedete che ci sono dei tasti funzioni diciamo così dei quali potete scegliere per variare questa visualizzazione dunque vabbè il q è per uscire comunque schiacciate q uscite e per esempio il sorteggio ovvero l'ordinamento di come vedete le informazioni di sistema lo potete cambiare con queste lettere quindi per difetto è per cpu quindi è questo la c se volete ordinare per occupazione di memoria vedete dovete premere m quindi se usciamo premendo di nuovo h torniamo qui invece di della cpu premo m e vedete che adesso è diventato in grassetto mem perché sono ordinati i programmi e i servizi che stanno girando sul sistema sono ordinati in ordine decrescente per memoria vedete per memoria e non più per cpu vogliamo tornare a cpu e la lettera c faccio c diventa in grassetto la cpu vedete che sono ordinati nuovamente per cpu m la memoria e vedete che qui sopra vi conferma che sono ordinati per la percentuale di memoria non è male molto semplice da usare quindi se si prende come dire la mano rapidamente ad usare questo 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 prodotto qui ci sono tutte le lettere per tutto per mostrare nascondere determinate informazioni se non avete bisogno di vederle eccetera eccetera vedete molto carino quindi lascio a voi approfondire se questo vi piace questo glensis vi piace lo volete adottare come sto facendo io ultimamente poi imparerete anche in fretta almeno le lettere che volete usare di più senza neanche più aver bisogno di entrare in questo help per vedere e non vedere tutto quello che avete bisogno ecco qua vedete show height left sidebar quindi se premo il 2 vediamo un po' giusto per vedere ancora qualche opzione ecco se premo il 2 sparesce tutta la parte qui sulla sinistra rispettivamente ripremo il 2 e riappare quindi guadagnate posto per ulteriori informazioni qui in mezzo per esempio vedete potete proprio gestire tutto quello che volete vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' se c'è ancora qualcos'altro di interessante show height io stats la D dei dischi ecco la D dei dischi quindi questa informazione sul lavoro che stanno facendo i dischi in lettura e scrittura se non vi interessa premete D per dischi e vedete che sparisce quel paragrafino qua dei dischi rispettivamente riappare eccetera eccetera tutta l'interfaccia è gestibile in questo modo ecco io credo che se vi ho incuriosito o ingolosito a provare questo lenses magari ad adottarlo definitivamente sapete come fare avete visto se ci sono delle difficoltà di installazione semplicemente ripetete il comando il sito ve lo lascio naturalmente nella descrizione del video e quindi è tutto qua tutto a posto una volta installato dovete solo divertirvi ed utilizzarlo molto bello carino con questo ho concluso vi saluto e vi attendo alla prossima ciao ciao ciao